Martedì 5 settembre agli ore 19.30 si terrà presso il Cineteatro Edoardo Di Filippo di Agropoli nell'ambito della Festa della Speranza. La proiezione gratuita del film Il Sindaco Pescatore, l'evento è organizzato dalla Fondazione Angelo Vassallo, Sindaco Pescatore, unitamente all'Associazione Agropoli Bene Comune. Intervengono Annarita Spira e Vito Rizzo, del Comitato Promotore ABC e Massimo Vassallo e Girardo Spira, della Fondazione Angelo Vassallo. Presente anche Don Luigi Merola, parroquantica murra e presidente della Fondazione Avocere e Creature, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Inoltre, il 18 settembre con i bambini della scuola primaria Anna Mozzillo si pianterà l'albero della legalità. L'iniziativa è promossa in collaborazione con il gruppo consigliare ABC Agropoli Bene Comune e realizzata con il patrocino del Comune di Agropoli.